Grazie per l'invito. Leggendo l'invito a questo evento, mi è tornato in mente un'esperienza che ho fatto da giovane. Ero ancora studente all'università, qui a Roma, e mi stavo laureando in scienze statistiche. E insieme ad alcuni amici avevo fondato un'agenzia di stampa, piccolina. E il nostro motto era, se un cane morde un uomo non fa notizia, ma se mille cani mordono mille uomini, questo sì che può e deve fare notizia. In pratica era una parafrasi un po' polemica del classico motto secondo cui un uomo che morde un cane fa notizia, ma non il contrario. Eravamo specializzati nella raccolta di informazioni sulle iniziative per la tutela dei diritti dei cittadini e vendevamo le nostre notizie a una trasmissione che forse qualcuno di voi ricorda, si chiamava Mi Manda Lubrano. Partiamo da casi di cronaca o iniziative locali e ogni volta cercavamo di associare al singolo fatto quei dati statistici che avrebbero potuto aiutare a capirne l'estensione, quanta gente era coinvolta, che effetto aveva nella vita della gente. Potete facilmente immaginare che mentre non era per nulla difficile trovare e collezionare fatti, eventi, incontravamo grossi ostacoli per trovare i dati statistici che ci servivano per far parlare quei singoli fatti, quei singoli eventi. Mi ricordo un caso di mala sanità avvenuto in un pronto soccorso cui era seguito un intervento del Tribunale per i diritti del malato. Noi volevamo corredare il fatto con il numero di persone che ogni anno passano per i pronto soccorso, che fanno l'esperienza di questo servizio, ma non riuscimmo a trovarlo. E non ci restò altro che decidere in fretta e furia con la redazione della RAI di lanciare un sondaggio telefonico e andarlo a raccogliere esplicitamente, chiaramente rinviando il servizio poi di una settimana. Se dovessi confezionare oggi quello stesso articolo, sono sicuro che non avrei nessuna difficoltà a trovare i dati che allora non erano disponibili. Per esempio, potrei andare a cercare quanti sono i ricoveri di urgenza in Piemonte degli uomini in un certo momento, in un certo anno, oppure non avrei nessuna difficoltà a trovare sondaggi sulla soddisfazione degli utenti, ad esempio in Toscana, ho visto che erano facilmente disponibili, oppure siti inimmaginabili allora, come questo di Bologna, che mi dice in tempo reale quanti utenti sono in fila al pronto soccorso dei vari ospedali cittadini in modo da poter decidere dove andare per attendere il meno possibile. Se facessi ancora oggi il giornalista, avrei certamente a disposizione un mondo di dati da utilizzare e da sfruttare, però col tempo il nostro gruppo si è sciolto, ognuno è andato per la sua strada, oggi non faccio più il giornalista, lavoro invece come statistico alla Commissione europea e per certi versi mi trovo a operare dall'altro lato, dal lato di quelli che debbono aprire, fornire dati e trovare regole, procedure e strumenti tecnici adeguati. Vorrei quindi parlarvi di tre cose, delle norme sul riuso dell'informazione pubblica, delle tecnologie per la pubblicazione dei dati statistici e delle tecnologie per favorire il loro riuso. Cominciamo subito con le regole del gioco e diciamo che su questo fronte la Commissione europea ha svolto un ruolo attivo negli ultimi anni. La direttiva del 2003 ha dato un quadro di base per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e la decisione del 2006 ha applicato questo quadro agli stessi dati della Commissione. Oggi, dopo ampia consultazione, la Commissione ha deciso di riesaminare ambedue questi strumenti legislativi al fine di rinforzarne e attualizzarne alcuni aspetti, i formati per la pubblicazione, le licenze che li accompagnano, i prezzi che è legittimo eventualmente introdurre, nonché i settori di applicazione, ridiscutendo l'opportunità di alcune delle eccezioni che erano state introdotte a suo tempo per il settore culturale e per i risultati della ricerca scientifica. La proposta è in stato avanzato e dovrebbe essere adottata ufficialmente dalla Commissione entro la fine dell'anno. Quindi saprete presto che direzione stiamo prendendo. Passiamo invece adesso alle tecnologie per la pubblicazione dei dati. Per farlo partirò da un esempio concreto, il sito che abbiamo messo online a maggio di quest'anno per aprire i dati statistici che utilizziamo per il monitoraggio degli sviluppi della società dell'informazione, il cosiddetto digital agenda scoreboard, con questi termini inglesi non molto gradevoli. Quindi parlerò di dati statistici. Lascerò un attimo da parte tutti quegli altri tipi di dati che spesso si confondono ma che considero abbastanza differenti, che si riferiscono alla geolocalizzazione di luoghi e cose, ai bilanci, agli inventari, i cataloghi, gli organigrammi, tutte cose che fanno parte di questo stesso mondo open data. Questo è il home page del nostro sito che permette di vedere più o meno quanto digital sono i differenti paesi europei, di compararli tra di loro e di vedere a che punto è l'implementazione delle varie policy. In bella vista chiaramente troviamo gli obiettivi, i target quantitativi che ci si è dati a livello europeo in termini di adozione delle tecnologie dell'informazione da qui all'orizzonte 2015-2020 e tutti i documenti politici di riferimento. Ma questo esula dall'incontro di oggi. Quello che mi interessa è che in basso a destra troverete invece un link agli open data che in questo ambito abbiamo reso pubblici e stiamo rendendo pubblici. Seguendo questo link si arriva a un piccolo, anche qui, portale destinato a crescere, dove mettiamo a disposizione del pubblico vari dataset. Chiaramente, in bella figura, troverete i risultati del lavoro di collaborazione che abbiamo con Eurostat e gli istituti nazionali di statistica per produrre indicatori ufficiali annuali sull'uso delle ICT da parte degli individui, delle famiglie, delle imprese, con approfondimenti vari, tematici, revisioni periodiche per tenere il passo con l'evoluzione della tecnologia e con l'innovazione sociale nell'uso di Internet. Per ora, sono link a database completi in formato access. Ci sono poi alcuni dati che produciamo noi stessi, insieme e in collaborazione con le autorità nazionali di regolazione del mercato delle telecomunicazioni, al fine di tenere sotto controllo le evoluzioni di questo mercato dopo la liberalizzazione voluta alla fine degli anni 90. In questo caso, il formato è quello di una rozza private table abbastanza ad alto contesto, ma di grande interesse per gli addecchi ai lavori, data l'unicità dei dati. Stiamo poi centralizzando su questa stessa pagina i dati originali raccolti attraverso studi e ricerche, alcuni ad hoc, alcuni periodici, realizzati per vedere che ne è dell'uso di Internet negli ospedali, nelle scuole, quali sono le opinioni dei consumatori, eccetera. E presto potremmo aggiungere anche alcuni dati non più basati su interviste, ma sull'analisi realizzata tramite robot delle tracce digitali che lasciamo sulla rete. Però lasciatemi dire che con questo fine, con questo sito, eravamo soprattutto interessati a pubblicare, non più su carta, ma su web, i database contenenti una selezione di indicatori, circa una sessantina per il momento, tra i più significativi per realizzare il cosiddetto benchmarking, ossia la comparazione della performance dei 27 Stati membri dell'Unione Europea. Dato questo obiettivo, ci è parso importante investire su due aspetti, sulla visualizzazione dei dati, attraverso grafici, e nella riutilizzabilità dei dati da parte delle autorità nazionali, dei ricercatori, dei giornalisti. Cominciamo quindi da alcuni aspetti riguardanti la visualizzazione. Come vedete, questi sono i quattro grafici di base che mettiamo a disposizione, che sono attivabili su tutti gli indicatori. Lo abbiamo fatto e li abbiamo scelti in funzione di tre obiettivi. Abbiamo investito nella visualizzazione dei dati, innanzitutto perché questo favorisce la comunicazione, una visione d'insieme, meglio, peggio, prima, dopo, e permette di cogliere la dispersione, i trend, le associazioni e anche le singolarità. E questo si fa facilmente con gli histogrammi, le linee temporali, i plot tra variabili. Però abbiamo deciso poi di seguire fino in fondo, di spingere fino in fondo la logica del benchmarking e proporre un quarto tipo di grafico che permettesse di visualizzare il profilo di ogni paese all'interno di uno spazio semantico abbastanza intuitivo, uno spazio semantico definito al centro dalla media europea e agli estremi, destra e sinistra, dai valori minimi e massimi osservati in Europa. Un secondo obiettivo che abbiamo ricercato è stato quello di permettere un uso più personalizzato dei dati, l'esplorazione soggettiva, la ricerca delle informazioni rilevanti per me, utente che sto consultando i dati, in modo da permettere attraverso vari bottoni a chiunque di selezionare quali paesi mi interessa comparare, in questo caso potrei essere interessato a comparare l'Italia con la Francia, lasciando da parte i paesi baltici che hanno un'altra storia, altre dinamiche, ognuno può selezionare ciò che è di interesse. La terza preoccupazione che ci ha guidato è stata quella di comunicare correttamente tutti i metadati necessari per poter interpretare le cifre, i risultati degli indicatori con sufficiente rigore. È infatti fin troppo facile cedere alle sirene delle visualizzazioni con tante animazioni, colori e trend, ma che comunicano molto spesso più di quanto i dati non contengano, generando e alimentando equivoci e interpretazioni improprie. Ma parliamo adesso un attimo di come favorire il riutilizzo dei dati in senso più stretto. Certo, ci siamo preoccupati del riutilizzo dei grafici. È un elemento importante della politica di apertura dei dati, anche questo, e mettendo a disposizione un insieme abbastanza ampio di bottoni per la stampa, il copia e incolla, l'export dei dati, l'export delle quairi che li hanno generati, senza dimenticare gli ormai imprescindibili bottoni per la condivisione sui social network. Ma ci siamo preoccupati anche di associare ad ogni grafico una URL, un indirizzo web, che permetta di citare facilmente i grafici, di riutilizzarli in altri contesti, embedded, come si dice, e in altri ambienti. Tuttavia, il vero riutilizzo di cui si parla qui è il riutilizzo dei dati grezzi, dei raw data. A questo fine abbiamo anzitutto scelto di offrire una pluralità di formati proprietari e non CSV, XLS, SQL per il download dei dati, pratica di apertura. E in secondo luogo abbiamo deciso di offrire una documentazione ricca sui metadati che accompagnano i file di partenza. E con questa semplice scelta penso che possiamo dire che il nostro sito si è guadagnata le prime tre stelle secondo la nota scala di Timberser lì che penso tutti voi conosciate. L'esame di questa scala però ci ha spinti a avere qualche ambizione in più e a provare a sperimentare le quattro stelle. Provare a vedere se potevamo fare qualcosa per rendere i nostri dati accessibili, identificabili facilmente attraverso URL, attraverso indirizzi web, il cosiddetto data linking. un'opzione che va nella direzione del sostegno alla creazione di un web semantico. Non è questa la sede per entrare nei dettagli di queste tecniche con le quali io stesso mi sto ancora familiarizzando ma l'idea di base ruota attorno a due concetti semplici. Lo sviluppo di vocabolari standard riutilizzabili anche da altre persone per definire i concetti e l'uso di indirizzi URI, URL, indirizzi web per puntare per indicare i concetti gli indicatori nonché gli stessi dati se è del caso. Quindi per descrivere le basi dati abbiamo deciso di adottare il Data Cube Vocabulary uno standard per la pubblicazione di dati statistici sul web semantico che si basa a sua volta su un ampio riutilizzo dell'SDMX lo standard per la pubblicazione di dati pubblici che tutti i colleghi dell'ISTAT sicuramente conoscono questo per avere definizioni univoche chiare di che cos'è una dimensione che cos'è una serie temporale quali sono le localizzazioni geografiche di riferimento eccetera certo mancano ancora vocabolari per definire i concetti i fenomeni ai quali ci vogliamo riferire ma questo è uno dei challenge del futuro mentre per identificare i concetti secondo l'approccio RDF ci siamo basati su indirizzi web strutturati e questo è un piccolo esempio di cosa intendiamo per puntare i dati per renderli collegabili tra di loro sembra ad alto contesto ma in realtà il primo indirizzo punta un indicatore in questo caso il numero di connessioni broadband vendute su un mercato nazionale mentre il secondo indirizzo punta un dato particolare se usiamo un'interfaccia umana per leggere questi tipi di indirizzi troviamo che il secondo indirizzo per esempio ci restituisce immediatamente che il 45% degli italiani è nel 2010 era considerato un utilizzatore intensivo utilizzava internet tutti i giorni o quasi tutti i giorni le operazioni di puntamento di questo genere sono facili e attraverso questi link si possono ritrovare i metadata che li accompagnano tutto questo è stato possibile grazie ai risultati della ricerca scientifica europea che ci ha dato accesso a queste tecnologie che sono in corso di sviluppo attualmente e anche se il nostro dataset è relativamente piccolo parliamo di un numero di centinaia di indicatori non di cose grosse ci è sembrato doveroso provare a svilupparlo nella direzione indicata dalla ricerca penso infatti che dobbiamo essere consapevoli che vista la crescita continua di contenuti digitali disponibili sul web i dati che vogliamo pubblicare per esistere per esistere realmente debbano essere di facile accesso e soprattutto di immediata riutilizzabilità con meno manipolazioni possibili stiamo ad esempio lavorando per essere in grado di puntare in questo stesso modo i molti dati e indicatori di Eurostat e creare citazioni o riutilizzi che restano corretti anche quando i dati vengono aggiornati modificati integrati attualizzati evitando costose operazioni manuali altre istituzioni europee si stanno orientando verso questo tipo di approcci per pubblicare in RDF tutte le pubblicazioni europee tutte le call for tender i bandi di gara pubblici tutti i grandi cataloghi dell'Eurlex e cose di questo tipo permettetemi a questo punto di aprire una piccola parentesi sulla ricerca scientifica finanziata a livello europeo visto che vi ho fatto riferimento per dire che molti aspetti dell'open data sono attualmente suscettibili di sostegno da parte dei programmi R&D che finanziamo il bando del 2009 i cui progetti sono attualmente in corso ha puntato in termini di approccio sullo standard W3C RDF che permette non solo di pubblicare come ho detto i dati sul web ma anche di collegarli tra di loro così da facilitare l'esame incrociato di tutti i dati relativi a una certa entità per esempio una regione geografica o un comune indipendentemente da chi li abbia prodotti di collegare dati provenienti da fonti diverse il progetto LOD2 che sta costruendo una libreria di strumenti per facilitare il data linking ha anche messo in piedi un servizio di consulenza tecnica che consente ad amministrazioni pubbliche di ottenere gratuitamente un audit delle proprie risorse dati e un piano di pubblicazione di queste risorse nel formato RDF Linked Data con l'ausilio di software open source accessibili gratuitamente noi stessi internamente abbiamo usuito di questo servizio e probabilmente servizi analoghi potrebbero essere utilizzati per dare impulso a questo tipo di pratiche un nuovo bando è stato lanciato quest'anno con altri 50 milioni se ricordo bene sul tema della gestione intelligente dell'informazione al fine di creare istituzioni e piattaforme che incentivino la gestione coordinata dei dati diminuendone il costo aumentandone la qualità e molte proposte quelle ricevute riguardano il riutilizzo dei dati pubblici chiudo la parentesi sulla ricerca e torno un attimo comincio a riassumere per chiudere per favorire il riutilizzo ho menzionato alcuni approcci semplici puntare su una molteplicità di formati in modo da non essere troppo vincolati fornire metadati accurati condizione imprescindibile per evitare misunderstanding incomprensioni e errori investire nel data linking siamo ancora a livello di linguaggi sperimentali l'RDF non è uno standard definitivo ma è una delle migliori carte sulle quali possiamo investire per capire fin dove si può arrivare c'è un ulteriore approccio che va menzionato in questa sede che è la costituzione di portali ne abbiamo appena parlato abbiamo visto gli sforzi che si stanno facendo in Italia anche noi a livello comunitario stiamo orientandoci in questa direzione i prototipi sono già in fase di sperimentazione e nel 2012 per l'anno prossimo contiamo di mettere online il portale delle istituzioni europee i portali sono importanti favoriscono un inventario in qualche modo delle risorse disponibili ma aprono anche molte domande sulle quali varrebbe la pena riflettere maggiormente di quanto non si sia fatto finora perché in qualche modo costringono e rendono non sempre facile la ricerca dei dati si continua a lavorare in maniera abbastanza primitiva per parole chiave parole chiave che non si sa bene se si riferiscono al dataset al singolo indicatore a quale livello si applicano quale sia il livello migliore per costruire questi inventari lavorare per singoli indicatori lavorare piuttosto per basi di dati che provengono da una stessa investigazione da una stessa survey ci sono vari trade off che andrebbero analizzati tra il vantaggio della frammentazione che forse permette di puntare più facilmente all'identificazione e certi livelli di aggregazione che invece facilitano la navigazione o facilitano lo sfruttamento dei link tra indicatori o che facilitano anche la comunicazione dei metadati sopra gli stessi penso che ancora abbiamo molto da imparare a questo livello e infine per chiudere vorrei citare il fatto che c'è un rischio implicitamente già menzionato dai miei colleghi finora che è quello di uno scollamento possibile tra le tecnologie per la pubblicazione dei dati e l'insieme dei riutilizzi possibili tra chi offre dati e chi li può e li vuole utilizzare è essenziale che questi due attori chi pubblica e chi utilizza si considerino parte di una stessa comunità di azione che chi pubblica possa capire quali dati sono più interessanti per quali ragioni e quali applicativi sono utili a chi questo dialogo è necessario per questo il portale della commissione conterrà come già hanno fatto altri una sezione dedicata alle applicazioni che usano i nostri dati nonché qualche sistema per raccogliere attraverso blog o altro i commenti e i feedback dei vari utilizzatori sempre per questo motivo la commissione continuerà e sostiene eventi come l'open government data camp che è iniziato oggi stesso a Varsavia e che è una delle più grosse occasioni di incontro tra i vari attori di questo mondo per i produttori di statistica pubblica di cui mi considero parte tutto questo significa imparare a dialogare con nuovi tipi di interlocutori nuovi tipi di imprese di organizzazioni civiche e dunque molto bene ha fatto l'istat a mettere l'open data al centro della giornata nazionale della statistica organizzando un evento tipo questo che spero sia solo l'inizio di una lunga serie concludo il mio intervento vi ho parlato di alcune delle iniziative europee per promuovere l'open data nonché dell'esempio un po' particolare ma concreto del digital agenda scoreboard che sia chiaro non ve l'ho presentato per dare uno standard di riferimento assolutamente non siamo nemmeno multilingue per il momento non raccogliamo commenti abbiamo molti difetti se ve ne ho parlato è soltanto per condividere problemi e preoccupazioni vissuti lungo un percorso che abbiamo appena cominciato un percorso di apprendimento ricco di tentativi di insuccessi di errori un percorso però che è anche ricco di opportunità ed è per questo che vale la pena di continuare a sperimentare e incoraggiare tutte le parti in causa a dialogare e collaborare per far sì che l'open data possa dare un contributo significativo alla trasparenza e alla riflessività delle nostre società vi ringrazio grazie Stefano per questa esposizione molto interessante e panoramica su queste iniziative mi sembra di sottolineare che di dover sottolineare che ad esempio l'idea del data linking che sappiamo è importante ci porta anche culturalmente a pensare il benchmarking in maniera molto diversa cioè in maniera non statica dinamica io per esperienza negli Stati Uniti ad esempio ho vissuto in contesti in cui per la scelta dell'abitazione si prendono insieme tutta una serie di informazioni ma a livello di quartiere su criminalità tassi di entrata nel mercato del lavoro dalla scuola di quartiere allora mettere insieme e integrare queste informazioni in forma semplice è il modo di restituire l'informazione al cittadino